Buongiorno a tutti, io mi chiamo Emanuele, mi chiamo Emanuele e rappresento la cooperativa Le terrazze di Pescosoglio. Io vi voglio rubare veramente pochissimo tempo, perché questa serata ci sono personaggi più illustri sicuramente di me, quindi mi dispiace rubare molto tempo. Vi dico soltanto che sono sicuro che tutti voi avete qualcuno in famiglia o comunque che gravita intorno alla vostra famiglia che produce olio e sono convinto che tutti voi sapete che l'olio prodotto dalle nostre famiglie è più buono di quello che si compra al supermercato come il Carapelli o che ne so, qualsiasi altra marca. Emozionato Emanuele. Esatto. Però nonostante questo sono sicuro che tutti voi spendete volentieri qualche soldo in più per quest'olio sicuramente superiore. Quindi io mi inserisco nel solco dell'associazione di Saltarelli e promuovo questo prodotto di pesco solido che è sicuramente un prodotto di eccellenza. Vi invito ad assaggiarlo perché è sicuramente un prodotto di altissimo livello. E adesso bisogna dare i premi.